La nomina del Patriarca di Gerusalemme Cardinale è stata data a Gerusalemme, la Chiesa Madre, una voce ancora più importante nel contesto della Chiesa Universale ma anche della comunità internazionale. Gerusalemme è il cuore della vita del mondo e Gerusalemme dunque ha bisogno di ricevere supporto da tutto il mondo ma anche di trasmettere il suo desiderio di vita e di prospettiva per il futuro a tutto il mondo.